Un tenore, quanto è importante, quanto è bella la tua voce? Beh, quando è complicata a volte, perché togliere i vestiti di un cantante crossover per metterne alti completamente diversi è sicuramente per un cantante un po' più difficile probabilmente. Quando hai capito che potevi fare quello che vuoi con la tua voce? Beh, ma io ho cercato sempre durante la mia carriera di diversificare con la mia voce, di cantare sia la musica leggera, sia la lirica e quindi questo è un bel connubio che il crossover ha di consapevolezza e quindi si cerca anche un pochino di uscire fuori dagli schemi a volte di non prendersi neanche troppo sul serio, no? Scherzare con la musica e mettersi in gioco. E come tenore crossover, quale ti piace di più come genere e quale è più semplice? Beh, il crossover come lirica sicuramente è molto difficile. E la difficoltà ancora più grande è quella poi di tornare a essere un cantante leggero, pop, quindi unire queste due particolarità che sono a mio avviso molto belle quando riesci ad unirle e a farle tue.